Io quest'anno insieme a 52.000 persone ho fatto una cosa molto importante, ho impedito alla fine Ecobank di pignorarmi la casa. Quest'anno insieme a 63.000 persone abbiamo fatto qualcosa di giusto, abbiamo difeso l'immagine dell'erroe attivista antimafia Peppino Impastato. Quest'anno insieme abbiamo fatto una cosa grandiosa, abbiamo fatto chiudere il macello di Beirut. Insieme a 150.000 persone quest'anno ho fatto qualcosa di concreto, ho contribuito al riconoscimento del record di Elham, notatrice iraniana. Insieme a 42.000 persone quest'anno ho fatto qualcosa di eccezionale, sono riuscito ad entrare nel programma di protezione destinata. Insieme a 68.000 persone quest'anno ho contribuito a un risultato importante, la rimozione del segreto di Stato sui documenti che riguardano la morte di Ilaria Alpi e sul traffico di armi e rifiuti. Quest'anno è successo ancora qualcosa, qualcosa di tragico, perché tutto è cominciato quando Carlo è stato ucciso. Per Carlo è stato piantato un albero e la sua morte, invece di diventare simbolo di odio, è diventata il simbolo di chi vuole continuare a credere che nonostante tutto, fare qualcosa di migliore e cambiare sia possibile. E tu, cosa cambierai?